Il GUP di Reggio Calabria, Francesco Petrone, ha rinviato a giudizio per omicidio colposo un medico e un'infermiere in servizio presso il presidio ospedaliero di Scilla. Il procedimento è scaturito dopo una denuncia presentata dai familiari di Antonino Tripepi, di 64 anni, deceduto la sera del 19 febbraio del 2006. Il paziente, che era stato ricoverato il giorno precedente per un versamento pleurico a seguito di un aggravamento della patologia, è stato trasferito nel reparto di rianimazione del Policlinico Universitario di Messina, dove poi è morto. Il GUP, ritenendo sufficienti gli elementi probatori raccolte nelle indagini preliminari e rilevando profili di responsabilità per i due indagati, ha disposto quindi il loro rinvio a giudizio. Il difensore delle parti civili costituite in giudizio, Avvocato Francesco Creaco, sostiene che il personale sanitario ha sottovalutato i sintomi che dimostravano un peggioramento delle condizioni di salute del paziente, i quali avrebbero dovuto adottare un intervento terapeutico immediato.